salve a tutti benvenuti in questa serie su UFC 5 con il nostro bomba man ora voi mi ricordate sicuramente io pure voi ricordate che abbiamo chiuso la scorsa puntata guardando cosa è stato il match successivo il match successivo signori è questo qua match per il titolo signori primo match titolato contro il campione colby covington ma prima voglio vedere che tipo è wrestler arca miseria wrestler è proprio il peggiore questo va a terra questo va a terra questo combatte molto a terra e questa è una discreta rottura di scatole discreta rottura di scatole allora direi sparring non me ne prega niente anche a costo pago penali tanti soldi ce li ho andiamo qua a simula vai poi di nuovo qua pugni discendenti quanto abbiamo 55 allora cambiamo montanti colpi qualsiasi pugni discendenti vai vai andiamo di questo andiamo di questo io trattato devo abbassare il volume perchè se non vuoi mi torna brutto allora allora cambia qua uno due la tua mamma è fulla tre quattro poi non tanti aspetta ah oh vai ok a posto aspetta colpi qualsiasi great job good work with your hands yes that's what I'm talking about you're starting to fall apart ok ok poi discendenti no ma L1 aspetta è uno e due si ma almeno sopravvivi per farmi fare i punti vabbè niente e niente va bene così va bene così punti evoluzione niente ok e quello del pugilato ce lo siamo vabbè poi allora 10 io direi clamore a me mi frega niente quelli anche quelli ah no non ho non ho robe non ho robe obbligatorie benissimo contro con i clienti ma si niente va bene allora andiamo a settimana successiva ottima una cosa che non ho incontri non ho cose obbligatorie a fare di robe allora sparring parte l'infortunato vabbè simuliamo qua va bene le muay thai simula rene simula again poi quanto abbiamo 10 10 clamore 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 promozioni promozioni scrivi tu i social 10 scrivi tu i social va bene possiamo farlo siamo a media come forma fisica abbiamo raggiunto forma fisica media noi ci serve la mass match è titolato contro uno che è anche abbastanza tosto quindi allora sesta allora pugno quasi inclince copri direi colpi inclince sesta montagna inclince tutto inclince va bene va bene ti fai inclince allora ok guarda 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 ok porca porto allora tu c'è la mamma certo ma ma vuoi finir se spara in pain non mi devi non mi devi ammazzar ok poi ok ora levati a leva questa è un montante ok ok aspetta porca porca e aca ok porca a posto ora ah con l1 vabbè non ci sono arrivato a fare tutti va bene va bene va bene va bene ora ok continua dai che ti va avanti dai che ti va avanti la preparazione è tutto complicata allora poi sparring e devo fare per forza di questo simula vabbè si simula 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 sparring ok benissimo 5 punti ci faccio niente quindi simula settimana andiamo alla prossima siamo ancora a media va bene ora io direi sparring muetà 55 allora calci frustati grigi danno un ginocchiato al corpo calci frustati non ne ho a meno che a meno che falciatore come è il falciatore l1 l1 il triangolo poi la torale al corpo la torale al corpo principale calcio della gru calcio della gru io non so se questo è un microstato pugno superman no nominata principale nominata rotante calcio in gancio principale pugno esterno c'è un carino allora incende principale ginocchiato volante calcio frustati ma forse calcio della gru possibile calcio della gru r1 allora com'è il calcio della gru proviamo vediamo dai andiamo col calcio della gru Hermans allora ehi bello gru c'è l'ho già il calcio della gru il calcio fa urru faccio un po' il cretino però penso magari lo apprezzate anche va bene signori il calcio della gru ce l'ho ce l'ho ce l'ho ma lo conta come frustato o no buona idea però in ogni caso evoluzione combattente ci abbiamo da evolverlo ci abbiamo da evolverlo forza corpo forza corpo forza corpo sì e abbiamo altri 20 punti che ci facciamo ci facciamo niente però io direi ok tanto per potenza calcio e potenza pugni mi sa che devo migliorare quello comunque quanto è rimasto di punti 5 non ci facciamo niente sì una settimana andiamo la settimana 5 ora sparring muay thai calci frustati vabbè ma stimolo questo forma massima va bene va bene e poter stimolare ancora quanto abbiamo stimolare ancora 55 però potrei fare muay thai calcio frustati e però questo potrebbe avere poco però sarebbe giusto giusto clamore azioni 55 serve tutto clamore però sono a pelo no clamore è già alto non mi prega di alzarlo ancora di più sparring vediamo se calci frustati se 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 quello se il calcio della crew lo conta come frustato ok no non lo conta bene 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 Ok Ok, allora Ok Porca Non Porca Prella Boom Va bene Scusa Scusa Va bene Però va bene Forma perfetta Siamo in forma perfetta Per affrontare Il campione Signori Primo match Di tolato di questa carriera Contro il campione De pesi melter Non sarà facile Sarà facile per niente Perché proprio Ci troviamo davanti Il peggiore tipo Di avversario Che mi Mai ritrovato davanti Oh Dai Ok Va bene Scrive una scena Me la guardo Ok Sì 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 E andiamo allora E si va Va che Va che Scenerizzatore Questa Stavolta però La sequenza La faccio vedere tutta Stavolta la faccio vedere tutta La sequenza Oh è un match importante Primo match Titolato ragazzi Ce la vediamo tutta Il nostro iraniano Bomba Amman Pronto al suo primo match Titolato Eccolo Bomba Bomba Amman Da Gotap Iran Eccoci Resistenza straordinaria Mani veloci come fulmini Cardio incredibile Addirittura Questo Si dice Del nostro Bomba Amman Si dice questo Pronto Capersalina In ottagono Pronto ad affrontare Il suo primo match Titolato E dall'altro angolo Dell'ottagono Che in realtà Non è l'altro Sono uno degli altri Angoli Vabbè Questo è un altro Descorso Eccolo qua Il campione Del mondo I bettivelter In carica Convington Eccolo Pronto Sta per salire L'ottagono Colby Convington Da Oregon Dall'Oregon 2-6 Pronti Pro dal 2012 All American Wrestler Striker Instancabile Addirittura E speriamo che faccia più da Striker Che da Wrestler Io trovo sempre Questo gioco Mi sono sempre trovato In difficoltà Quando il match Veniva portato a terra Che là Non ci sto giocando Non mi ci trovo Non mi piace Mi hanno Non mi ci sono mai messo E eccolo qua E eccolo qua Pesiverter Match per il titolo 41 anni Siamo più alti E ci abbiamo Il nostro bombamano E più alto E ha più portata Signori E signori Andiamo alla presentazione Da parte di E c'è ancora una bella Jack E c'è ancora una bella E c'è ancora una bella Stiva ragazzi Eeeh Fubito Fubito lo prende Questo Fubito il primo colpo Lo prende Ok Calma Eeeh Ok Calma No Ok Calma Lui va aggressivo Lui va avanti Calma Peccato Male No Guardia Porca Senza guardia Guardia piena Ok 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 Calma 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 Ok 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 Eeeh Eeeh Ma però Ok 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 Calma Bene che l'ha preso Questo Eeeh L'ha preso Questo Questo l'ha sentito Questo l'ha sentito No No Calma Calma Cacchio Rialzati Rialzati Ok Non sta in piedi Qui giustamente cercherà di portarlo Giustamente cercherà sempre di portarlo Portare il match Al Eeeh A terra Perché c'è un tipo specialità Ma Bello Apre No Calma 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 Ma è al corpo Al volto Colpi di Mi sente Eeeh Imparerà molto di più Ok Calma Olè E' andata K.O. signori Si vince il titolo primo tentativo allora E alè Questo va Uuuu Questo Un paio di denti si era ingoiati Eeeh Boom Tanti saluti Convington Tanti cari saluti Convington E si arriva dai imbattuti al titolo E a questo punto Vi lascio in silenzio la programmazione Eeeh Cucci Signori Si 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 arriva il titolo Haha Nuovo campione del mondo di PC Vector E adesso sono curioso a vedere che succede Perchè Perchè nel corso iFC Se andava su Ok Si Ok Ok Ehm 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 Signori Signori Oh Boh Onestamente ecco Devo essere molto sincero Non mi aspettavo Di arrivare a vincere il titolo così presto Ehm Sinceramente non me l'aspettavo Sinceramente non me l'aspettavo Sinceramente non me l'aspettavo Di arrivare a vincere il titolo così presto Bene E direi bene così E allora dalla prossima volta in poi Ehm Contra Turned Ehm Da campioni signori Ehm 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 Allora avanti il prossimo Ehm Ehm Tre incontri senza infortuni Massimo Dai Aspetta il contratto E andiamo E andiamo signori Subito Berretto Tutto molto bello Tutto molto bello Oh Signori Intanto evoluzione combattente Con questi 20 punti Vediamo cosa si può fare Nulla Copertura Allora Eh Il vantaggio Incontro mostrato Una copertura ben riuscita Ehm Vabbè Signori questi me li conservo Signori detto questo Direi che noi possiamo oggi Possiamo fermarci qui E darci appuntamento alla prossima Grazie a tutti Ehm 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 Ehm